Ciao a tutti ragazzi da Danny26 siamo qui in questo nuovo video in questo video parleremo di calciomercato appunto calciomercato del Napoli perché Rafa Marin sarà un nuovo giocatore del Napoli ragazzi arriva dal Real Madrid dopo tante settimane che se ne parla sarà un nuovo giocatore del Napoli con l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore prima di iniziare con il video ragazzi vi invito a lasciare un like per il supporto, iscrivervi e attivare la campanella così da non perdervi nessun mio prossimo video condividete il video in modo da farlo arrivare a più gente possibile Rafa Marin ragazzi difensore centrale non molto molto conosciuto nato il 19 maggio classe 2022 quindi è un 22enne alto 1,91 quindi molto alto ha il contratto in scadenza nel 2026 con il Real Madrid attualmente rientrato da un prestito la scorsa partita ha totalizzato 33 partite 33 presenze e circa 2500 minuti 0 gol e 0 assist per lui comunque ci può stare un difensore un difensore centrale 6 gialli che non sono neanche tanti considerando i minuti giocati e anche le sue presenze anche se in realtà comunque ricordiamoci che anche se soprattutto scusate ricordiamoci che gioca in Liga ha giocato in Liga queste partite quindi lì i cartellini vengono anche sfornati abbastanza facilmente a differenza di quello che può essere in Premier League di come quindi si può fare un paragone con un giocatore che viene dalla Premier League quindi sicuramente 6 gialli per un difensore centrale che ha fatto tutte quelle presenze non sono per niente tanti ci possono stare giocatore che quindi sarà a disposizione di Conte entro la prima partita di campionato che sarà tra un mese affare che è stato comunque molto molto lento ci ha messo diverse settimane da sbloccarsi questo affare se ne è parlato per molto tempo e adesso è arrivato l'ir we go di Fabrizio Romano anche se era da diverse settimane che ormai si aveva quasi la certezza punto acquisto per 10-12 milioni di euro quindi Rafa Marin viene al Napoli per 10-12 milioni di euro con attenzione una clausola di recompera del Real Madrid a 25 milioni nel 2026 o a 35 milioni nel 2027 con il Napoli che ha l'opzione di pagare altri 10 milioni nel 2025 per raddoppiare il valore della clausola del 2026 da 25 milioni a 50 milioni e per raddoppiare il valore della clausola del 2027 da 35 milioni a 70 milioni quindi ragazzi è anche un dettaglio molto molto particolare che non si vede spesso nelle trattative anzi io non ricordo un giocatore che è venuto al Napoli con una clausola di recompera addirittura così complessa con questa particolarità quindi è un dettaglio molto molto importante e vedremo come si evolverà anche la situazione di questa clausola nei prossimi anni giocatore che percepirà lo stipendio di 1,2 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili a stagione e appunto è arrivato l'Iruigo di Fabrizio Romano dopo che se ne parlava da un po' poi è un giocatore per chi non lo sconoscesse appunto come ho detto a inizio video alto quindi è anche un ottimo colpitore di testa ed è abile nel gioco aereo sicuramente può aiutare nel Napoli di Antonio Conte anche per quello che abbiamo visto nella scorsa stagione con i problemi principali nel reparto difensivo dopo l'addio di Kim, Rachmani Juan Jesus e Ostigard non hanno saputo dare quella solidità che aveva dato Kim che poi aveva permesso anche al Napoli di vincere lo scudetto e vedremo se Rafa Marin può essere il rinforzo giusto per aiutare il Napoli da questo punto di vista vedremo se sarà anche un difensore che si rivelerà un abile marcatore perché appunto anche Kim abbiamo visto due anni fa veniva da una stagione in cui praticamente non aveva segnato e poi invece qualche bel bel gol l'ha fatto poi un'altra abilità sua è nell'impostare l'azione nonostante sia così piccolino d'età diciamo è abile anche a sviluppare l'azione palla al piede con la costruzione dal basso e questa è una cosa veramente molto molto interessante perché può anche essere in grado di innescare poi i compagni nel centrocampo e nel reparto offensivo vedremo come lo inserirà Conte nella squadra se sarà titolare oppure giocherà un po' di meno farà più per il turnover vedremo ragazzi tutto questo quando inizierà la stagione intanto arriverà nei prossimi giorni dopo aver sostenuto le visite mediche e nulla ragazzi ci vediamo nel prossimo video di Calcio Mercato sempre sul canale vi chiedo un like se vi è piaciuto il video iscrivetevi e attivate la campanella così da non perdervi nessun mio prossimo video condividete il video in modo da farlo arrivare a più gente possibile ciao a tutti ragazzi ci vediamo prossimamente